ciao a tutti sono veri video games oggi continuiamo con the sims e andiamo avanti ok volevo ringraziare e l'onore esposito per avermi detto che si può fare pure la carriera youtube perché non ero convinta 100% si potesse fare ti ringrazio e poi se avete altri consigli da darmi su che cosa fare ditemelo tipo vi faccio vedere video allegro ma adesso lei fa qualche video poi può pure fare il montaggio del video e poi poi anche e poi lo pubblica c'è troppo forte ci ho già provato ed è veramente divertente mi consiglio di fare tante cose perché così allo tipo noi stiamo facendo l'attrice no abbiamo pure pubblicato le canzoni che dopo vediamo se riusciamo a farne altre qua riproduci il brano no pubblica un brano e pubblichiamo un brano hanno l'ha pubblicato questo che abbiamo fatto a tom si pisci ha ambiato una comunicazione e spesso l'emozione entusiasmo in merito la tua va bene mi consiglio di fare tante cose per aggiungere subito la fama io sto facendo tutto youtuber attrice cantante e tutto sto facendo sto pure pubblicando la musica su spotty sim come si chiama non mi ricordo più ma lo dico già ci metto un anno per fare un video ok nome del file del video era un video blog quindi che cacchi scriviamo potevo lasciare quello che c'era scritto vabbè da video blog blog non so che cacchi scrivere allora voi vedete tipo che io pubblico i video ok ma ci metto un'ora per decidere il titolo quando lo sapete ci mettono ora per decidere titolo la copertina 3000 anni per editare il video perché sembra facile ma non lo è affatto vabbè io metto solo video blog perché adesso non mi viene in mente descrizione del file del video non mi ricordo più che cosa avevo messo poi ma si può essere così smemorati vabbè dai facciamo video blog e basta cos'è che era a video blog gallegro non mi ricordavo proprio aspetta bravo pubblichiamo dopo quindi allora adesso deve averlo nell'inventario giusto ok quindi qualità scarsa quello me lo immaginavo ok possiamo montare il video non hai pubblicato ok l'ha pubblicato lo stesso la musica va bene avevi tanta voglia di pubblicare vero ecco adesso sta montando il video ci metterà un anno pure qui già ve lo dico il video è stato montato non può più essere modificato va bene quindi adesso potrei pubblicarlo allora visualizza l'inventario e facciamo così descrizione del video parlo di me dai parlo di me che descrizione mamma mia proprio allora visualizza e pubblichiamo il video carica il video ok ora le carica il video ecco stella emergente ok sono salite ok ginevra è stata riconosciuta come stella emergente ha guadagnato altri due punti di fama che può usare per acquistare vantaggi alla fama in aggiunta ora può firmare autografi possiamo firmare autografi raga o scegliere di posare per le fotografie di altri sim un'ottima occasione per tale attività l'incontro delle celebrità con i propri ammiratori che ora ginevra può ospitare selezionando pianificano evento sociale sul suo telefono a quindi aspetta quindi possiamo pure pianificare un evento sociale wow che figata ok allora vediamo qua e vedete abbiamo due stelle cavoli dai punti di fama praticamente qua coi punti fama una puoi scegliere che cosa mettere perché c'è palato raffinato so io non voglio quello allora visibile vediamo c'è qualcosa di ginevra che la distingue rispetto alla moltitudine di e non passano osservate gli occhi degli altri sim ok io direi questo punto per il primo punto che prende questo questo c'è già mi sa di sì perché viene rimasto uno celebri sero con celebrità ginevra va successo a un esclusivo servizio di consegna vabbè queste cose mi interessano l'agenzia di pubbliche relazioni fa in modo che un'agenzia di pubbliche relazioni aiuti ginevra gestire la propria immagine per le una rapida telefonata all'agenzia può inescare la pubblicazione di un articolo vabbè collaborazione societaria invii su internet la postazione video da quale è da quella musica riflutteranno ginevra più fama della norma in aggiunta l'influenza di ginevra beh visto che cantiamo facciamo video preso metto queste metto queste due collaborazione societaria è visibile questo cos'è influencer con influenze ginevra si ritroverà a costruire un rapporto di fiducia con il pubblico di ammiratori le sarà regolamenti ricapitate per post assi vabbè no vabbè per adesso queste due dai ok perfetto il video è stato caricato abbiamo caricato video abbiamo raggiunto la seconda stella che è stella emergente va bene io direi di andarci a fare un giro per vedere se effettivamente fermiamo gli autografi alle persone quindi direi di andare vedi firma un autografo vedete possiamo pure firmare nato grafo bene vabbè dai per adesso cantiamo che a meno aumento pure un po la fama è miglioro pure nel canto quindi esercitati a cantare che grazie grazie così aumento di fama lei che cos'è stella emergente ah come me allora mi stanno battendo le mani perfetto grazie ma già ti scappa pipì dai canta pochettino poi andiamo in bagno ovviamente stanno facendo le foto a lui che la celebrità è perché noi ancora siamo stella emergente non siamo così famose ok io direi di andare in bagno è vero ragazzi mi sono dimenticato dobbiamo cercarci un nuovo lavoro ma chi è sto Udao Yassin i miei ossequi signora sono un rappresentante dell'etichetta musicale innovatori del gusto è possibile che abbia già sentito parlare di noi saremo lieti di proporre un contratto tutto quel che deve fare è firmare sulla linea tratteggiata no vabbè l'etichetta musicale vi rendete conto accettiamola accettiamo accettiamo dai ok va bene vabbè praticamente allora ho capito è così tu devi pubblicare le canzoni sempre se poi dopo un po di tempo tu non pubbliche le canzoni loro ti ti stracciano il contratto praticamente non lavori più con loro ok va bene ci proveremo però vediamo controlla innovatori del gusto vedi qua posso controllare addirittura è vero devo vedere per gli ingaggi prima che mi scordo ok ingaggi ma solo questi due ma facciamo la schiuma salata un'altra volta allora guardate questa la miratrice oddio la miratrice dai firma ienatografo dai firma poverina dai guardate no vabbè che figata bello gassi gassi presentazione amichevole dai parliamo un po con lei oddio guardate ammiratore è smenuto è proprio fatto questo ma poverino no 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 dai anatografo io facciamo poverino dai firma oddio preghe preghe mille oddio un'altra preghe 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 mille ok abbiamo firmato pure lui oddio fermiamo no vabbè che figata mi sto divertendo io pensavo che non mi cagava nessuno invece ne sto facendo di autografi ascolta la miratore basta vai a casa non prendere più niente e prendere patatine vai a casa ma vedi che si stanca allora dobbiamo fare niente di lavoro no perché c'è carisma ma carisma siamo posto ok io direi di finire qua spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando se volete altri video iscrivetevi al canale e ciao 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 Grazie a tutti